L'urologia è la branca della medicina che si occupa della diagnosi, del trattamento e della cura dell'apparato urinario e dell'apparato genitale maschile. L'urologo possiede le conoscenze anatomiche e fisiologiche dei reni, ureteri, vescica e uretra, ma anche la fisiologia dei testicoli, dotti deferenti, vescicole seminali, prostata e apparato maschile. L'urologia si serve in sede di diagnosi, di strumenti quali l'ecografia, l'esplorazione della prostata nell'uomo, biopsia renale o biopsia vescicale. A seconda della patologia rilevata, l'urologo può collaborare con altre figure specialistiche, come l'oncologo, in caso di tumore, il nefrologo, in caso di patologie all'arene, il ginecologo, il neurologo o l'andrologo. Per diventare urologo, è necessario essere laureati in medicina e chirurgia e successivamente iscriversi al corso di specializzazione in urologia. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Ci si rivolge all'urologo, dietro consultazione del proprio medico di medicina generale, nel momento in cui si dovessero presentare disturbi, di cui l'origine, possano far pensare agli organi dell'apparato urinario. Le maggiori patologie curate dall'urologo sono I sintomi che non vanno in nessun modo sottovalutati possono essere Dolore durante la minzione che non passa Perdita di urina ripetuta Stimolo di urinare spesso Presenza di sangue nelle urine Per gli uomini si possono aggiungere altri stati come Presenza di gonfiore Presenza di sangue nel liquido seminale Impotenza Stai cercando l'urologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.drbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di Uma Innovation Buona giornata!